Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Abbracciamosi forte e vogliamoci tanto bene! Serata mondiale a Gavirate con la coppia Bergo-Micaressa all'oratorio San Luigi Gonzaga per l'appuntamento più atteso del Giugno Sport. La manifestazione che da 35 anni richiama in riva al lago appassionati di volley, basket e naturalmente calcio. Tutto esaurito per ascoltare gli aneddoti legati al trionfo azzurro del 2006 e non solo. In mezzo a tanti giovani si è anche parlato di valori come stare insieme all'insegna dello sport, rispetto alle regole, importanza di una vita sana ed equilibrata. Noi sentiamo le mancanze all'oratorio perché era un buon inizio per giocare. Tu hai iniziato all'oratorio mi sa. Qual è l'oratorio? L'oratorio di Settala, l'oratorio San Giuseppe. No, felice di essere qui, ti dico la vita a vedere anche così tanta gente, questa partecipazione. Ho scritto un libro e parte sempre dall'oratorio e racconto un po' tutto quello che ho fatto prima di arrivare a fare il calciatore. Quindi essere qui in questi luoghi fa solo che piacere e vedere tanta gente e entusiasmo che non è scontato, quindi bene.